Stop al 3D e bambini con meno di 6 anni rischiano danni alla vista. L'allarme arriva dalla Nintendo. La casa produttrice giapponese ha reso noto che a un evento promozionale che si terrà in questo mese a Tokyo, metterà a disposizione solo console bidimensionali per i bambini di 6 anni o meno, perché l'uso prolungato di quelle 3D potrebbero compromettere lo sviluppo dei loro occhi. La nuova generazione di console DS della Nintendo, che consente agli utenti di giocare in 3D senza l'utilizzo di cichiali, è uscita sul mercato il 26 dicembre in Giappone e a marzo in USA, Europa e Australia. Grazie a tutti.